Passiamo alla categoria Giorgienti Pielli, Tezza, Carraro, stessa il Comunale si partita di reggione in molto aglio ancora partito Boba Pielli del Vesnato e Piotrino in seconda abbiamo Carraro il livello di prostituta delegatoria in terza, Tezza, Ciclamani adesso in quattro un ultimo posto di reggione sembra quella per il Garlate con tre a picco quindi tre a picco accede alla finale